Cilento, Salerno, torna segreti d'autore, un omaggio al cinema e alla cultura, tra passato e presente. Tra gli ospiti Sergio Assisi, Maurizio De Giovanni, Euridice Exen, Lina Sastri. Premio segreti d'autore a Francesco Di Leva e Anna Foglietta. Il festival ha preso il via il 30 agosto e proseguirà fino all'8 settembre. Farà da cornice lo storico Palazzo Coppola di Valle Cilento a Sessa Cilento. La quattordicesima edizione del festival segreti d'autore, sarà una manifestazione dedicata all'ambiente, alle scienze, alle arti e alla legalità. Quest'anno, la rassegna si arricchisce di un programma fitto di incontri, proiezioni e spettacoli, con un occhio di riguardo al cinema italiano e alla cultura del nostro paese. A fare da cornice a questa edizione saranno i vincitori del premio segreti d'autore 2024, Francesco Di Leva e Anna Foglietta. I due attori riceveranno un'opera dell'artista Mimmo Paladino durante le serate del 6 e del 7 settembre. Tra gli ospiti più attesi, Maurizio De Giovanni in dialogo con Euridice Exen, Lina Sastri con la presentazione del suo primo film da regista, e un omaggio a Ciccio Ingrassia con la partecipazione del figlio Giampiero. Oltre agli eventi cinematografici, il festival offrirà anche l'opportunità di visitare tre mostre d'arte contemporanea, Il tempo dell'attesa, di Lia Pasqualino, Malura, di Simona Fredella e, Le forme dell'anima, di Marina Turco. Le opere saranno esposte al pubblico dalle 18 alle 20 durante tutti i giorni del festival.